Presidente, lei non deve intervenire nei contenuti, questo è un mio contenuto, io sto dicendo Presidente, io sto dicendo, mi perdoni, che questo è un mio giudizio, io sto dicendo No, 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 lei ha ottimizzato, lei sta continuando a gridare, io per fatto personale intervengo e le dico che lei non mi può attribuire termini del tipo dittatoriale, questo non le lo consento Come non le consento, si accomodi, non le ho dato la parola, non le ho dato la parola, si accomodi Si metta comodo, si metta comodo, si metta comodo, si metta comodo, signori dell'opposizione questi sono interventi a gamba tesa, sono interventi a gamba tesa, sono interventi a gamba tesa e sempre la sua, io vado dal prefetto io Va bene, non deve intervenire nei contenuti, però non ha la parola in questo momento Presidente, non deve intervenire nei contenuti, lei non ha la parola, lei sta intervenendo perché sulla documentazione, sicuramente, facciamo l'integrazione, ma non lo risulta che la documentazione si accarrà, lo metta per iscritto, lei sta intervenendo nei contenuti, grazie Chi l'ha detto? E chi l'ha detto?